Sul PNRR c'è troppa confusione. Dalla due giorni del Corriere dell'Irpinia, il Presidente della Provincia, Domenico Biancardi, lancia l'allarme e lo fa proprio a margine di un convegno sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, primo di una serie di incontri a più voci organizzati dallo storico quotidiano diretto da Gianni Festa. La riflessione ha coinvolto rappresentanti sindacali, degli ordini professionali, delle istituzioni, dell'imprenditoria. Biancardi è preoccupato, le nostre proposte, dice, sono sul tavolo del governo ma non si capisce chi dovrà scegliere e decidere. C'è un po' di confusione in verità e quindi noi su questa confusione l'unica certezza che c'è è che c'è stata una provincia che ha messo insieme le proposte che sono venute fuori dal territorio, dai sindaci, dagli amministratori e questa è l'unica cosa. Ora noi abbiamo inviato tutto al governo e alla cabina di regia però da qui poi non si riesce ancora a capire se è la cabina di regia, se è la regione Campania, chi deve avere l'autorità per poter scegliere i progetti che sono più confacenti in un'area come la nostra. Quindi il lavoro da parte nostra è stato fatto e come io ho detto sempre noi dobbiamo avere un riferimento nazionale e regionale e chi ci ascolti. Il problema è che l'ascolto è poco e le decisioni non vengono dal territorio ma vengono in altri luoghi e questo non è corretto perché conosciamo noi il territorio e conosciamo noi le nostre esigenze. C'è un ritardo da parte del governo? Può darsi anche che non ci sia il ritardo ma il problema è che sulla scelta non c'è collegialità e non c'è ascolto sulle nostre richieste. Noi rappresentiamo comunque dei 118 sindaci che hanno fatto richiesta di progetti. Su questo noi ci vogliamo confrontare se sono fatti bene, fatti male, se le proposte sono proposte valide e noi chiediamo soltanto di essere ascoltati.